funziona? si si, no cosa c'hai all'orecchio? prova prova, ideali per i qui il buo è nella stalla qui? no quello, quello lì mi hai dato la scossa tri voli non una, non due, non tre ah è vero scusa hai ragione, si questa volta questa volta viene fatto maturare in una grotta che era un bunker militare una bomba meglio guardare qui il buo è il latinello ciao